Il Comune di Teramo ha presentato il cronoprogramma degli interventi che Strada dei Parchi effettuerà nei prossimi mesi sulle rampe dell'8.0 in altre strade del territorio comunale. Lavori molto attesi e resi possibili grazie alla collaborazione tra l'ente comunale e Strada dei Parchi. Devo dire che dopo quasi dieci anni dalla chiusura della strada che collega la zona di Cartecchio con la zona della Gammarana, siamo riusciti attraverso un'interlocuzione positiva, propositiva con Strada dei Parchi a far sì che la strada potesse essere riaperta in tempi celerissimi perché i lavori inizieranno nelle prime settimane del mese di agosto, mentre invece per quanto riguarda le rampe, un'attività conseguente alla nostra sollecitazione ma anche un progetto che era già in corso da parte di Strada dei Parchi, saranno iniziate nel mese di settembre, la messa in sicurezza di tutte e cinque le rampe. Un ritardo, uno scivolamento dovuto non tanto a Strada dei Parchi ma più che altro perché il MIT in questi giorni ha chiesto ovviamente ai concessionari delle autostrade di ritardare, di dilatare le attività di ripristino e di messa in sicurezza nel periodo estivo. Quindi il concetto è che sarebbero iniziate nelle prime settimane di luglio i lavori ma adesso scivoleranno nel mese di settembre. Un dato sicuramente importantissimo che mette nella condizione l'amministrazione comunale di vivere una tranquillità, di stare più sereni sotto il profilo della sicurezza per quanto riguarda la viabilità e queste attività di messa in sicurezza si vanno anche ad integrare con il ponte San Gabriele dove i lavori sono in corso anche se l'attività è svolta direttamente da ANAS. Devo dire grazie a Strada dei Parchi perché nel momento in cui li abbiamo sollecitati per prendere questo problema in carico non hanno sicuramente fatto problemi, anzi ci hanno sostenuto. C'è stata un'attività veramente meritoria di Strada dei Parchi che posso testimoniare personalmente è stata fattiva, propositiva e anche nell'interesse della città. Qualche volta le situazioni si possono cambiare e nel caso nostro possiamo dire che Strada dei Parchi è stata veramente collaborativa nei nostri confronti.